Eccoci buonasera, vediamo un attimo come organizzarci per usare Cycles con Second Life con la versione 271 di Blender che è uscita il 25 giugno 2014 e finalmente è possibile farla Allora per vedere come usarla cominciamo a fare una piccola costruzione quindi cancelliamo il nostro cubo facciamo un piano ecco lo facciamo S e poi con CTRL CTRL cerchiamo di anzi no, facciamo 5 ok, vuol tale che sia grosso un po' così lo duplichiamo con Shift D di Domodossola Shift D e poi Y per spostarlo lateralmente usiamo CTRL per riuscire a metterlo esattamente allineato alla griglia Rx 90 e poi lo alziamo premiamo CTRL ok, per allinearlo poi facciamo lo stesso mestiere tasto destro lo selezioniamo Shift D duplicato e X vedete che si muove lungo la linea rossa e poi CTRL lo spostiamo un po' e poi R90 R Y 90 invio e poi ok, col CTRL e trasciniamo e ok abbiamo fatto una piccola scatola ora all'interno di questa scatola costruiamo con Add anzi Object Mode creiamo una UV Sphere una sfera UV questa qua la mettiamo vedete più o meno qui al centro e ricordiamoci di metterla smooth in modo tale che venga tutta bella tonda ok e a questo punto entriamo nel merito magari facciamo ancora solo una cosa selezioniamo questo piano Shift D sempre duplicazione Z per in alto CTRL mettiamo ecco chiudiamo un po' la scatola verso l'alto adesso vedremo perché andiamo quindi nella modalità Cycles la modalità Cycles si abilita qua Cycle Render vedete sembra che non succeda niente in realtà è cambiato tutto in particolare sono cambiate tutte le interfacce dei materiali e quindi dobbiamo reimparare da zero quello che sappiamo sui materiali allora una cosa importante di Cycles non esistono più le luci tradizionali quindi queste luci non ce ne facciamo praticamente niente perché le luci sono offerte dagli stessi diciamo oggetti in pratica renderemo luminescente il soffitto e il pavimento e l'obiettivo è quello di rendere riflettenti queste due pareti dopodiché prenderemo anche questa sfera la renderemo riflettente e con una texture sopra in modo tale da avere un effetto un effetto diciamo assolutamente non banale allora tutto ciò quindi abbiamo detto Cycles Render per vedere l'effetto di Cycles Render andiamo in modalità Rendered e vedete che si vede già una differenza cioè è tutto a questi puntini quindi cosa succede? vedete che lui fa il rendering e usa 10 samples 10 è poco infatti lo vedete un po' zigrinato quando verrà fatto il rendering bisognerà aumentare il 10 a un valore opportuno almeno 100 comunque adesso questo lo vedremo un po' dopo allora prendiamo il pavimento tasto destro vedete che purtroppo qui non si vede perché siamo in rendering però è il modo migliore almeno soprattutto quando si impara andiamo sul materiale e il materiale di questo lo aggiungiamo un materiale new e questo materiale di fondo vedete che adesso è fatto diffuse diffuse vuol dire che semplicemente ha un colore noi invece lo clicchiamo e gli diciamo che è emission vedete che essendo emission è diventato luminescente se è troppo luminescente possiamo ridurre la luminosità qua con la strength manteniamo al momento 1 possiamo controllare il colore quindi lo facciamo magari non proprio bianco che è un po' tedioso facciamo un pochino ok che tenda all'aranciato e lo stesso lavoro lo facciamo premuto il tasto destro qua su lo facciamo per il soffitto in cui metteremo un altro materiale lo faremo anche questo emissive e questa volta lo facciamo un pochino più che va sul blu tipo cielo ok quindi abbiamo vedete una sfera che è illuminata dall'alto dal cielo e dal basso dal terreno diciamo ad esempio qui potrebbe esserci anche una texture ma per semplicità adesso ci teniamo questo colore qua una cosa possiamo ancora andare qui a selezionare il mondo cioè tutto ciò che sta fuori e il mondo il colore lo facciamo completamente nero quindi facciamo questa scatola praticamente l'unica scatola presente e così fa più scena diciamo mentre componiamo ok adesso andiamo a fare specchi questi due lati tasto destro lo clicco poi vado sul materiale gli aggiungo un materiale nuovo materiale 003 invece di essere diffuse lo faccio glossy se lo trovo ah sì è sopra ecco qua c'è il vetro glossy glossy bsdf e vedete che è già diventato il nostro vetro cioè vetro riflettente facciamo la stessa cosa su questo aggiungiamo uno slot e nello slot gli mettiamo il materiale 3 che era riflettente quindi vedete che abbiamo già ottenuto un effetto di specchi visibili in cycles direttamente ora prendiamoci concentriamoci sulla nostra sfera e facciamo anche lei riflettente quindi cosa facciamo dunque gli aggiungiamo uno slot con un nuovo materiale materiale 4 e questo materiale lo facciamo più o meno come vi ho visto prima glossy vedete che riflette e questo è già una cosa interessante quindi riflette vedete che verso l'alto riflette il cielo sotto riflette il pavimento e a fianco riflette altre cose tra l'altro qua riflette anche le altre sfere vedete che si vedono qua eventualmente se vogliamo vederlo meglio selezioniamo facciamo S ho sbagliato quindi il tasto destro quindi selezioniamo la sfera S e la ingrandiamo un po' ok e abbiamo questa sfera un pochino più grossa e si riflette e dentro vediamo le altre sfere quindi questa è la cosa ok qui volendo probabilmente possiamo anche mettere una texture quindi possiamo andare qua dunque sul colore qua il colore associato alla nostra sfera gli possiamo aggiungere una image texture image texture la prendiamo la apriamo dal nostro e ci mettiamo per esempio un'immagine di una luna che però non ha funzionato un granché quindi per l'almento facciamo facciamo che ci togliamo la texture se riusciamo a remove ok teniamoci questo tanto per i fini del baking al momento va bene anche così cioè perché noi vogliamo fare il baking quindi associare questa ah si adesso mi ricordo come fare quindi lo faremo anche perché infatti dobbiamo aprire avere una UV image editor qua a fianco selezionare la sfera andare in edit mode perché vogliamo fare la UV map di questa sfera quindi facciamo U unwrap sphere projection ok adesso qui vedete che me l'ha data giusta perché l'avevo già usato prima ho dovuto usare align to object perché se no vi vedete che viene tutto strano quindi align to object polar zx e poi eventualmente avete si vi ho fatto provate questo per vedere vedete questa è una abbastanza buona UV map della sfera allora una volta che c'è l'UV map possiamo andare qui selezionare questa sfera e vediamo che oltre alla c'è la sfera che vi ho visto prima c'è anche proprio la nostra texture e qua possiamo aggiungerci una texture e questa texture la facciamo e neanche qua riusciamo a mettercela boh questo lo vediamo un po' in un altro in un altro tutorial come mettercela finiamo invece questo baking perché in realtà è la parte più interessante ok allora come facciamo per fare il baking di questo oggetto quindi dalla UV map che è quella che selezioniamo la sfera edit mode ci accertiamo che sia veramente lei ci creiamo una nuova immagine 1024 per 1024 eventualmente senza alfa la chiamiamo bucket ok perché qui vogliamo fare il baking mettiamo lasciamo pure 1024 ok e quindi abbiamo un'immagine nera ora questa immagine nera dobbiamo fargli il baking di tutti questi effetti no? per vedere se riusciamo a metterceli allora con la sfera selezionata possiamo anche andare in dovrebbe funzionare anche in in object mode quindi andiamo qua dove c'è la macchina fotografica in fondo ecco con il cycle surrender della 271 abbiamo anche il baking quindi facciamo il baking facciamo il bake combined e a questo punto dovrebbe vediamo un po' facendo bake dovrebbe fare il baking dunque no active image found in material 004 quindi dobbiamo andargela a mettercela quindi effettivamente dobbiamo mettercela perché questo è il material 004 deve esserci una immagine e l'immagine che prima ah image or movie eccola qui non l'avevo trovata e finalmente abbiamo trovato il modo per farlo ci mettiamo la luna famosa ok quindi adesso dovrebbe trovarsela la luna associata e quindi se andiamo di nuovo a fare questo non dovrebbe darci l'errore quindi facciamo bake eh non c'è neanche adesso quindi material 4 image image remove ok forse ho trovato quindi andiamo qui dove c'è il colore nel colore della nostra sfera clicchiamo sulla texture gli mettiamo image texture e andiamo ad aprire l'immagine della luna e vedete che lui ce l'ha fatta vedere questa immagine della luna che ovviamente viene distorta perché viene viene a essere diciamo perché si comporta in una figura riflettente e questo è una cosa tra l'altro molto importante ok se volessimo vedere un po' di più qualcosa sopra potremmo andare su questo colore che sta sopra e aumentare praticamente l'intensità ecco in modo da ottenere degli effetti diciamo vedete che qua si vede anche un pezzo adesso qui è un po' particolare comunque il discorso è che vedendo questi effetti che sono effetti ottenuti con tutto sommato pochissimi elementi sulla scena la nostra intenzione è quella di fare il backing ora proviamo a vedere avendo messo l'immagine che prima ci diceva che mancava eventualmente anche un'immagine vuota proviamo a fare il backing che prima non ci lasciava fare quindi sfera andiamo sulla macchina fotografica andiamo quindi in bake combined su questo baked e facciamo questo ben detto baking ok come vedete l'immagine l'abbiamo ottenuta anche se ma potrebbe anche andare in teoria per second life però vedete che è un pochino meno sgranata lo è come fare per ottenere un'immagine meno sgranata dobbiamo andare qua dove c'è scritto sampling sempre di questo oggetto e qui nello sampling vedete che qui sono il rendering invece che 10 gli possiamo mettere 100 mettendo 100 automaticamente quando si fa il baking il baking lui usa una risoluzione 10 volte superiore quindi dovrebbe rendere l'immagine un pochino più definita ci impiega sicuramente molto di più quindi adesso lancio il baking è più grande questo numero che abbiamo visto qui e più ci impiegherà quindi magari interrompo un attimo e vi dirò quanto ci ha impiegato quindi baking lui è lì teoria qui dovrebbe dire a che punto è ma non lo sta dicendo sta occupando molto la CPU quindi dobbiamo dargli il tempo di fare questo baking ok ci ha impiegato circa un minuto e vedete che adesso abbiamo un'immagine che è leggermente meglio anche se insomma relativamente perché dipende dalla risoluzione iniziale quindi non è detto che sia conveniente aumentare i samples adesso ci impiega tanto comunque perché ci sono tante superfici riflettenti e come vedete è molto diciamo riesce a rendere quello che succederebbe nella realtà qui diciamo che ai fini pratici possiamo tornare a mettere 10 e l'immagine comunque prodotta possiamo salvarla image save as image e usarla poi per portarla in second life questo è il grande vantaggio di Blender 2.71 rispetto a prima e ovviamente dobbiamo esportare anche la sfera quindi prendiamo la sfera dobbiamo fare file export con l'ADA ricordiamo di mettere slp open sim static la salviamo adesso non lo faccio ma è giusto farvi vedere che esce e poi usciamo anche con quella ora quello che volevo farvi vedere è anche la possibilità di fare altri effetti per esempio possiamo mettere la O quindi possiamo dire anziché combined combined vuol dire che prende tutto possiamo fare l'ambient occlusion se facciamo l'ambient occlusion cioè le shadow vedete che adesso noi dobbiamo impiegarci relativamente poco ci fa vedere le ombre e vedete che sotto è tutto un po' bianco e sopra ci sono queste ombre vedete che c'è questo effetto perché abbiamo 10 se al posto di 10 mettiamo 100 dovrebbero venire meno anzi facciamolo proprio l'esperimento invece che no facciamo 50 quindi ci impiega in maniera un pochino più umana sempre tanto quindi ci impiegherà mezzo minuto e infatti ci è impiegato relativamente poco quindi abbiamo la possibilità di ottenere vari effetti voi potete giocarci sopra ok quindi magari adesso per per semplicità proviamo anche a rifare questo baking con un altro oggetto per ridurre i tempi possiamo evitare di avere tutte le specchiature qua quindi magari selezioniamo il materiale degli specchi che era il materiale 003 invece di essere glossy gli mettiamo un anche un emission un emission un po' più basso ok e lo coloriamo quindi le pareti facciamo più o meno così insomma ok quindi quello è colorato ma non mi piace mica tanto facciamo un altro effetto questo qui è l'effetto velluto ok e qui cancelliamo la nostra sfera e proviamo a metterci il nostro cubo tasto destro GZ no tasto destro sul cubo GZ ce la portiamo verso l'alto ok quindi questo cubo ci aspettiamo lo facciamo magari leggermente glossy lui con un materiale quindi questo cubo gli mettiamo il allora un glossy quello di prima materiale 4 che era un po' glossy ah c'era anche un image magari togliamo l'immagine vedete che quindi il cubo in sé sta riflettendo sta riflettendo ciò che lo circonda sono effette un po' difficili a dire comunque vedete che la parte sopra del cubo ha un colore poi a fianco c'è una serie di altri colori e così via ora proviamo a fare un unwrap di questo cubo e vedere di ottenere anche di questo cubo le sue varie cose quindi proviamo a fare andare in cubo tab u proviamo a fare un smart vproject ecco vedete che il cubo praticamente viene uv mappato in questo modo non è bellissimo ma per i nostri fini può andare bene allora proviamo a vedere se riusciamo già a farci sopra il nostro baking quindi facciamo il baking dell'ambiente occlusion fatto su questo cubo allora anche qua manca l'immagine e quindi dobbiamo metterci per il materiale 4 quindi andiamo sul nostro cubo andiamo sul materiale e qui ci mettiamo un'immagine possiamo metterci anche un'immagine tipo questa vedete che è ricalcolata dovrebbe in teoria essere sufficiente vediamo un po' se funziona andiamo diciamo bake dell'ambiente occlusion no non andava bene e questo è da studiare un attimino quindi andiamo non la vara noi ma image texture e l'image texture gli mettiamo l'immagine per esempio questa ok quindi abbiamo visto prima che questo gli piaceva facciamo cubo proviamo a fare di nuovo il baking adesso non si è arrabbiato attenzione che stiamo facendo l'ambiente occlusion e vedete che ci fa soltanto le ombre e sono soltanto in questa fase vedete che c'è l'ombra sopra luminosa laterale eccetera c'è proprio il shadow se vogliamo invece vedere il combined come prima facciamo il baking ok vedete ci piega sempre comunque un pochino di tempo ed ecco che ha fatto il baking del nostro oggetto ok quindi c'è praticamente ha fatto tutte le quattro facce con le cose che ci sono qui stessa cosa di prima possiamo esportare questo oggetto questa immagine e finalmente applicarla in second life ora gli effetti questo è solo didattico nel senso che per ottenere degli effetti degli nota aspetterei un altro video dove vi faccio vedere un esempio realistico però comunque la cosa interessante è la possibilità di fare di generare queste immagini e di poterle poi esportare quindi ripeto al momento questo è poco più che è un divertissement che mi sono fatto cercherò poi di fare degli esempi pratici facendo proprio dei tessuti e provando a generare anche delle normal map o delle specular map insomma tutte quelle cose che servono per dare un'immagine un po' migliore tipo un po' le cose che abbiamo fatto con render engine il blender render però fatte con cycles ok ci sentiamo quando nei prossimi tutorial di fare un po' Grazie a tutti.